Il Comune di Camerota nell'ambito delle politiche sociali ha previsto l'assegnazione gratuita di legna da ardere alle famiglie in difficoltà. In tal modo l'amministrazione intente concedere gratuitamente legna da ardere per uso domestico a famiglie in condizione di disagio socio-economico. I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Camerota e non devono superare un ISEE pari a 5.000 euro. Le richieste devono essere presentate entro il 15 febbraio 2019 all'ufficio protocollo del Comune di Camerota utilizzando i moduli predisposti reperibili presso l'ufficio politiche sociali o sul sito del Comune. Nell'assegnazione della legna si terrà conto dell'ISEE familiare e della presenza in famiglia di minori, anziani o diversamente abili. Questa è solo l'ultima delle attività da parte del Comune di Camerota finalizzate a garantire l'assistenza alle persone in difficoltà bisognose di aiuto. In particolare l'amministrazione si prefigge di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o, nella migliore delle ipotesi, l'eliminazione delle condizioni di disagio che siano di natura economica e sociale.